No direbbe adesso entro, vi faccio vedere io come si diverte, ma le orecchie sono rimaste Forza Dylan, distruggilo, distruggilo Dylan, il povero imprevido Jack Russell si sta difendendo il più possibile, ma Dylan il cane più grande sta attaccando e attacca ancora Jack Russell si difende a modo suo, si rincorrono, si rincorrono, lo prende, lo prende, lo prende, lo prende, lo morde ecco, lo riprende, lo riprende, lo ricorre, lo ricorre si stanno ammazzando, si ammazzano, si ammazzano ha perso, riattacca, 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 e riattacca ancora, riattacca sembra che fanno un balletto, forza Woody, anche con la palla, attacca pure la palla ecco, ecco lì, ecco lì, ecco lì, boom mi stanno ammazzando pure me vai, vai, e si rincorrono, si rincorrono, lo riprende, lo riprende, lo riprende, lo riprende, lo riprende e ora, la tregua, la tregua assoluta, e ribattono, 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 e gli hai fatti i massaggini, anche lui, e poi rinizia la guerra la guerra fra cani è riniziata quando finirà, ecco è morto, è morto, è morto, è morto il povero cane, con degli scatti, è morto con degli scatti, poveretto è morto con degli scatti, povero, gli sta leccando il pirulino gli lecca il pirulino perché, veramente gli leccano il pirulino che brutto ora, cerca di mangiarlo, cerca di mangiarlo, no, sotto attacco Mario, interviene Patrizia bu, bu siamo a un fumetto si attaccano non lo so, sai? dammi un po' e adesso, interviene lei boom e poi magari lo mangiano, Patri Patrizia, Patrizia, non te la lasciate, non te la lanciate sono mezzi morti, tutte e due ma come mai ha fatto la capriola, incredibile incredibile, capriola capriola, capriola e là, ci ricarono hanno perso l'orientamento la palla ai confini del mondo non ce la fanno più, hanno perso l'orientamento tutte e due sono alla fine dei conti boom, boom, il Jack Russell sta per essere messo a terra il Jack Russell sta per essere messo a terra e il Jack Russell va così a terra ah, lui ci difende e viene attaccato, e viene attaccato e viene attaccato e riattacca, riattacca riattacca boom viene il mare e ora la tregua la tregua no, rinitia boom, boom vudi vedi boom vudi no, piano vudi, più vudi, piano e ora la tregua boom